Ciao a tutti amici di App Video Review, oggi sarà una giornata di grandi novità per App Video Review, infatti sarà online ufficialmente il nostro nuovo sito www.vrmagazine.com e come già si capisce un po' dal nome vogliamo che diventi una specie di magazine, di giornale, di riferimento per tutti gli utenti Apple Android che vogliono informarsi e restare informati su tutte le novità per quanto riguarda dispositivi, applicazioni e accessori inerenti ai punti di amonti, sia Apple che Android. Sarà possibile trovare le solite video recensioni che troverete su YouTube, sarà possibile quindi visionarle direttamente dal sito, sarà inoltre possibile trovare delle recensioni iscritte, quindi anche articoli e inoltre sarà possibile quando ci sarà l'occasione di assistere ad eventi live nel senso che quando ci sarà un evento importante sia Apple che Android noi cercheremo di parteciparci per offrire appunto una cronaca in diretta dell'evento. Questa è la novità più importante di questo nuovo sito. Ovviamente è tutta una grafica rivisitata, secondo me è molto molto navigabile, molto ben fatto. In alto possiamo trovare tutte le categorie del sito che sono navigabili e ci permettono di andare velocemente nella sezione desiderata. Come seconda novità della giornata troveremo, non so se oggi o prossimamente comunque a brevissimo, una nuova grafica sia dei canali YouTube che degli account Facebook e Twitter che in tutto il mondo che ci circonda diciamo. Troveremo appunto questa nuova best grafica, quindi proprio un'autentata di novità. E niente, che dire, spero che il nuovo sito vi piazza e vi raccomando pubblicizzateci che ne abbiamo bisogno, come al solito. Spero appunto che lo troviate molto bello come l'ho trovato io e molto facilmente navigabile e molto semplice. Quindi, che dire, non mi resta altro che invitarvi a vedere appunto questo nuovo sito, vi ricordo che è www.avrmagazine.com E se avete qualcosa da dirci, da farci sapere, qualche consiglio, magari fateci, scriveteci o commentate qualche articolo in modo da, se vogliamo sentire anche le vostre voci. Bene, un'ultimissima novità, questa presumo faccia piacere a molti di voi, a breve ci sarà un super mega contest, non so neanche come chiamarlo, dedicato sia ad utenti Apple, sia ad utenti Android, ma vi assicuro che sarà veramente un contest molto grande e adesso non anticipo nulla perché non voglio rovinarvi la sorpresa, però vi assicuro che piacerà a molti, molti di voi. Quindi vi raccomando, restate collegati, andate a visitare giornalmente il nostro sito appunto in modo da essere sempre informati su nuove articoli per quanto riguarda applicazioni, accessori e dispositivi, ma anche appunto per quanto riguarda dei contest. Bene, le novità di oggi si concludono qui, mi sembra che ce ne siano abbastanza, adesso vi do il tempo di digerirla e così potete andare con calma a vedere il nostro nuovo sito. Un saluto, ciao a tutti! Grazie a tutti!